Il giorno dopo la scoperta del maxifurto di medicinali oncologici al Moscati presso la farmacia ospedaliera, il questore di Avellino Luigi Botte fa il punto sulle indagini. I ladri hanno forse agito su commissione rubando farmaci destinati ai malati di tumore per un valore di un milione e trecentomila euro. È probabile che il raid sia avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Colpi analoghi sono stati messi a segno di recente a Lecce e Trieste. L'ospedale ha assicurato che i frigoriferi saccheggiati saranno presto riforniti e in caso di emergenza si chiederà il supporto dell'Istituto Pascale di Napoli. Il questore non si sbilancia ma di certo c'è qualcosa che non ha funzionato nella vigilanza. Ancora una volta devo sottolineare come dei locali importanti, dei locali che contengono dei medicinali ad alto costo ma soprattutto medicinali che usati impropriamente sono estremamente pericolosi, vengano lasciati senza un minimo di protezione. Da quello che mi hanno raccontato gli investigatori e dal modus operandi ritengo che comunque era preordinato al massimo e ritengo che sia stato mirato a determinate sostanze medicinali. Del resto devo anche dire che non è l'unico caso in Italia, anzi è uno che segue molte altre vicende del genere per cui è un caso che noi attenzioneremo con massimo lavoro, con il massimo impegno perché può darsi che riusciremo a trovare anche dei collegamenti con fenomeni analoghi, fatti criminosi analoghi che si sono verificati in altre parti d'Italia. Quando intendo protezione passiva intendo non solo le telecamere ma un sistema di allarme, un sistema di allarme sonoro, vocale, protezioni di difesa passiva a stricto senso, penso a delle inferriate, penso a delle porte blindate perché sono delle condizioni minimali per assicurare una certa sicurezza ad un locale, ripeto, in cui erano conservati dei medicinali, al di là dei costi ma potrebbero essere usati impropriamente, quindi rischiamo di inguare la vita a molte persone.